La storia della nostra azienda nasce quasi un secolo fa sull'altopiano di Asiago. Appena finita la prima guerra mondiale, la nonna portò degli alveari e cominciò l'attività di allevamento delle api. Da allora noi produciamo con dei metodi biologici. A metà degli anni 80 noi abbiamo scoperto la frutta biologica perché abbiamo fatto una piccola produzione acquistando della frutta da produttori agricoli biologici e abbiamo fatto della confettura. Il sapore è stato veramente molto ma molto migliore di quella che producevamo precedentemente e da allora per noi solo prodotti biologici. I punti di forza del nostro prodotto sono essere buono e sano come tutti quanti i prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente. Buono e sano proprio per la mancanza di utilizzo di prodotti chimici, sostenibile per l'ambiente perché il mancato utilizzo di prodotti chimici, di concimi azotati, migliora l'ambiente attraverso la riduzione drastica dell'emissione di gas a serra. Quindi un prodotto più buono, più sano, più sostenibile per le future generazioni. I controlli in un'azienda agricola biologica vengono effettuati dall'organismo di controllo attraverso delle ispezioni sui campi, attraverso il controllo dei registri di campagna, attraverso il prelievo di campioni che vengono sottoposti ad analisi. L'azienda biologica poi effettua tutta quanta una serie di controlli sui prodotti che vengono acquistati per andare a verificare l'assenza di contaminanti e questi controlli vengono svolti sia sulla materia prima sia sul prodotto finito, per dare al consumatore veramente un prodotto pulito. Ancora oggi continuiamo la nostra tradizione centenaria, produciamo dell'ottimo miele sull'altopiano di Asiago, miele prodotto sui nostri meravigliosi prati, pascoli e miele proveniente da sottobosco ed oltre a questo noi abbiamo una rete di apicoltori con i quali noi produciamo del miele biologico in tante aree vocate del territorio italiano per dare al consumatore un prodotto di altissima qualità. Un miele pulito, un miele buono, un miele veramente biologico. Fogliolina è il simbolo del prodotto biologico. Se segui la fogliolina seguirai il prodotto biologico dalla produzione fino alla tua tavola. È il modo migliore per sostenere lo sviluppo del prodotto biologico, fare del bene a te e all'ambiente.